Si è tenuto nella sede di Borsa Italiana Palazzo Mezzanotte l'evento Listing Package UE, un passo cruciale nella regolamentazione dei mercati finanziari, organizzato da Assonext insieme ad Assonime, MF Italia ed Equita. È stato un incontro interessante su un cambiamento, come dice anche il titolo del programma, cruciale per i mercati dell'Unione Europea, perché si tratta di andare a semplificare norme che negli ultimi 40 anni si erano susseguite creando un ambiente di overregulation che andava a soffocare le società che volevano accedere al mercato o che erano già quotate. C'è sicuramente un neo che è l'entrata in vigore di queste norme, però mi sembra che tutti i regolatori abbiano accolto con grande soddisfazione questi lavori, a cui abbiamo partecipato con Assonext in un gruppo di lavoro promosso dalla Commissione Europea che ha portato a un report pubblicato a maggio del 2021, che poi ha dato la stura ai lavori che ha portato all'Esteen Package e che ha dato anche una spinta al legislatore domestico per quello che riguarda le leggi capitali. Quindi mi sembra da parte di operatori del mercato grande soddisfazione, c'è un po' ancora da attendere, però mi sembra che il verso in cui sta andando la Commissione Europea e la legislazione europea per i mercati finanziari sia quello corretto. È stato un momento di confronto su delle tematiche molto importanti per il mercato dei capitali, prospetto, market abuse, voto multiplo, MIFID, ricerca. Qui è una prima occasione di confronto, nonostante l'applicazione di tutta questa normativa andrà molto di là nel tempo e questa è la vera criticità di questo listing package che comunque è venuto incontro alle esigenze del mercato con proposte soddisfacenti. Peccato per il timing. Durante l'incontro è stata posta molta attenzione sulle implicazioni per il mercato finanziario italiano, ma si è data anche molta importanza all'unificazione normativa a livello europeo e dai passi da compiere verso la creazione di un mercato unico. Laddove c'è il regolamento, bene il regolamento perché sono norme uniforme per tutti, laddove c'è la direttiva perché non si può utilizzare un regolamento, sarebbe molto importante stringere il campo delle opzioni che vengono lasciate ai legislatori nazionali. In questo modo si può andare davvero verso la creazione di un mercato dei capitali comuni che potrebbe essere forse realizzabile prima per le società con grandi capitalizzazioni, quindi mantenere norme uguali se non proprio strettamente uniforme per tutte le società con capitalizzazione sopra una determinata soglia, ad esempio un miliardo, e mantenere invece i mercati locali per quelle più piccole.